Buonasera amici di segnalazioni letterarie, siamo nuovamente in diretta con l'avvocato Giovanni D'Ammassa che ci tiene in compagnia da ormai diverso tempo. Abbiamo iniziato recentemente un nuovo ciclo di appuntamenti con lui per parlare di pillole di diritto d'autore legate alle opere letterarie. Giovanni D'Ammassa è attivo da molti lustri ormai nell'ambito del copyright affini e se volete notizie su di lui, sulle sue attività www.dammassa.com. Vero Giovanni? Sì esatto, grazie Alberto e buonasera a tutti. Ecco allora, oggi vogliamo parlare di una direttiva che pochissimi anni fa è stata introdotta nell'ambito appunto del diritto d'autore della legislazione diciamo che gira attorno al copyright e credo che di questo argomento potremmo parlare anche in altre occasioni perché mi dicevi poco fa prima che andassimo in onda che si tratta di una cosa insomma che merita una trattazione esaustiva. Allora, esattamente di che cosa parliamo? Allora, intanto spieghiamo che cosa è una direttiva. La direttiva è un modo di legisferare dell'Unione Europea. In particolare oggi parliamo della direttiva 2019-790 del Parlamento Europeo del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le precedenti direttive 96-9 e 2001-29 che sono delle direttive sempre sul diritto d'autore. Sostanzialmente cosa fa il legislatore comunitario? A un certo punto ha deciso di cercare di dare un quadro, un framework come si dice, unitario sulla regolamentazione del diritto d'autore in Europa. Questo è iniziato a farlo diciamo dall'inizio degli anni 90 e sono succedute nel tempo tante direttive. Quindi il Parlamento e il Consiglio che sono organi, soprattutto il Parlamento, l'organo legislativo dell'Unione Europea, perché oggi si chiama Unione Europea, non più Comunità Europea, ha legiferato, come dicevo prima, per dare un quadro unitario di regolamentazione del diritto d'autore e la direttiva ha questa particolarità rispetto a un'altra modalità di stabilire delle regole che utilizza l'Unione Europea, che è il regolamento. Il regolamento, una volta che è pubblicato una gazzetta ufficiale della Comunità Europea, l'Unione Europea entra assolutamente in vigore e fa legge per tutti gli stati dell'Unione Europea. Invece la direttiva deve essere attuata nel singolo Stato, per cui ogni singolo Stato appartenente all'Unione Europea, come l'Italia, rispone poi a un atto normativo che prende le regole stabilite nella direttiva e le inserisce nella normativa locale, diciamo, dello Stato. E questo è stato fatto in Italia con un decreto legislativo, il decreto legislativo è una modalità che utilizza il governo per legiferare, su delega del Parlamento. Quindi il Parlamento ha delegato il governo a recepire tutta una serie di direttiva, lo fa ogni anno con una legge che si chiama legge comunitaria. Dopodiché il governo predispone gli schemi di attuazione delle regole comunitarie e lo fa con decreto legislativo. E la direttiva 790 del 2019, che è conosciuta anche col nome di direttiva copyright, è stata recepita con un decreto legislativo che è il 177 del 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a novembre 2019. Le norme sono entrate in vigore sostanzialmente il 12 dicembre, scusate, ho detto 177 del 2021, quindi due anni dopo, e le regole sono entrate in vigore nel 12 dicembre 2021. Una regola di quella che poi parleremo, invece, entra in vigore il 7 di giugno 2022. Ecco, tutto questo per spiegare un po' qual è il processo, diciamo, che porta poi a una modifica della nostra legge sul diritto autore, ovvero il legislatore comunitario dalle regole comuni. Poi queste vengono recepite nel sistema normativo del singolo paese, l'Italia lo fa e la cosa interessante che interessa sicuramente chi ci sta ascoltando è che il legislatore europeo, ecco, mi piace leggere considerando, cos'è considerando il 72 in questo caso, sono sostanzialmente le motivazioni che il legislatore comunitario inserisce nell'ambito di direttiva a spiegazione della norma che poi dopo viene scritta. E quindi la lettura riconsiderando ci spiega sostanzialmente. Ed è interessante leggere il 72 di questa direttiva copyright che dice questo. Gli autori e gli artisti, interprete e esecutori, si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti anche attraverso le proprie società a fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione. Ti fa risuonare qualcosa, Alberto, questa cosa? Eh, diciamo che sono questioni che non ci vengono abbastanza, più che altro ci vengono chieste. Esatto, vado avanti. E tali persone fisiche necessitano della protezione prevista nella presente direttiva per poter beneficiare appieno dei diritti, dei diritti d'autore ovviamente si sta parlando, armonizzata a norma del diritto dell'Unione. Tra le necessità di protezione non sussiste nei casi in cui la controparte contrattuale agisce in qualità di utente finale, non è il nostro caso, quindi non ci interessa. Ecco, questa è la premessa che fa il legislatore comunitario nel momento in cui stabilisce tutto un sistema di protezione a favore degli autori e degli artisti. Ovviamente i nostri ascoltatori sono autori di opere letterarie e per cui li richiamiamo sempre col termine autori. Quindi fa uno schema di protezione contrattuale partendo dalla premessa che l'autore è contraente debole. Cosa vuol dire contraente debole? Vuol dire che in un bilanciamento di poteri, diciamo, la bilancia pende più dalla parte dell'editore che dalla parte dell'autore. Soprattutto se è un autore alle prime armi. È chiaro che se parliamo invece di autori che hanno pubblicato e venduto tante copie delle loro opere letterarie, allora in questo caso sono loro che dettono un po' le condizioni nei confronti dell'editore. Quindi il legislatore comunitario sta pensando sicuramente ai nostri ascoltatori, ai membri di segnalazione letteraria. È probabile. È molto probabile, sì. e predispone questo schema di protezione individuando nei rapporti che ci sono tra l'autore e poi l'industria culturale sostanzialmente che confeziona poi l'opera per essere fruita dal pubblico, no? E quindi fa una sorta di intermediazione, no? Individua quattro aree e cerca di risolvere. E quali sono? Intanto la prima area è quella della rimunerazione di cui parleremo più approfonditamente oggi. E cosa dice? Che la rimunerazione a favore di autori a fronte alla concessione e cessione dei loro diritti deve essere adeguata e proporzionata. Poi in secondo luogo dice che il cessionario e il concessionario, nel caso nostro, il nostro editore, deve trasmettere periodicamente agli autori informazioni relative all'utilizzazione delle loro opere e o materiali con obbligo di trasparenza. Quindi mi devi trasmettere le informazioni, poi vedremo la prossima volta che cosa sono queste informazioni, ma soprattutto la devi fare con un obbligo di trasparenza. Quindi io dicevo, nel mio conto, devo capire che cosa c'è, anzi, ci devono essere delle cose, come vedremo, una serie di informazioni. Dopodiché, nel caso in cui la rimunerazione si rivelasse sproporzionatamente bassa, autori e artisti possono rinegoziare le condizioni del trasferimento dei diritti adeguati in base ai proventi generati dagli sfruttamenti. Quindi, se noi partiamo dall'inizio, cioè la rimunerazione deve essere adeguata e proporzionata, no? Questo però non sempre si può sapere quando si va a stipolare il contratto, se quello che viene proposto è adeguato e proporzionato. Lo so nel momento in cui ricevo i rendiconti, quindi le informazioni che il concessionario è obbligato a trasmettermi con obbligo di trasparenza. Allora, se in questo caso la rimunerazione si rivela sproporzionatamente bassa, vedremo poi in confronto a che cosa, posso rinegoziare, cioè la legge mi dice che posso rinegoziare. E da ultimo, in caso di mancato sfruttamento dei diritti ceduti e concessi, autori e artisti possono revocare i trasferimenti degli stessi o l'esclusiva. Quindi, il quarto strumento, sostanzialmente, fa sì che gli autori abbiano un medito, uno strumento, proprio per andare a riottenere i propri diritti nel momento in cui l'opera non vi è sfruttata. Quindi è un bel cerchio, secondo me. Cioè, si parte dalla stipula del contratto che dice che la rimunerazione deve essere adeguata e proporzionata, poi c'è, diciamo, l'esecuzione del contratto, quindi la pubblicazione, la rendicontazione, il fatto che la verifica che la rimunerazione non sia sproporzionatamente bassa e poi nel caso in cui l'opera esca dal mercato perché il cessionario e il concessionario non la sfrutta più, allora in questo caso c'è la possibilità di revocare il trasferimento dei diritti o anche solamente l'esclusiva. Ecco, Giovanni, quindi adesso in pochissimi minuti, direi in due o tre minuti, vogliamo approfondire un pochettino. Ma certo, partiamo dal primo. Molto in pillole perché poi chiaramente... Sì, guarda, ci limitiamo a leggere la previsione della norma. Quindi il legislatore cosa fa? Ovviamente attua queste disposizioni, lo fa tramite questo decreto legislativo 177 del 2021 che inserisce nella nostra legge sul diritto autore che vi ricordo essere la legge 22 aprile 1941 numero 633 e successiva modificazione, inserisce, come dicevo, un secondo comma, quindi un comma 2, l'articolo 107. L'articolo 107 dove sta? Sta nel titolo 1 della legge sul diritto autore, scusi, scusate, nel titolo 3. E nel capo 2 che si chiama Trasmissione dei diritti di utilizzazione, sezione 1, norme generali, e la primo comma lo leggiamo, cosa dice? C'è diritti di utilizzazione rispettante agli autori delle opere, dell'ingegno, nonché i diritti connessi, evidentemente caratteri patrimoniali, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti alla legge, salvo l'applicazione e non contenuti in questo campo. Istanzialmente sta dicendo che nella trasmissione dei diritti, quindi nella licenza o l'eccessione, eccetera, c'è autonomia delle parti e anche libertà di forma, salvo i limiti che noi troviamo indicati nella parte obbligazione e contratti del codice civile. E questo secondo comma invece che viene inserito dal decreto che attua questa direttiva copyright dice gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio, gli artisti interabili esecutori, inclusi i doppiatori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali protetti hanno diritto direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti a cui abbiano conferito apposito il mandato a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento all'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, eccetera, eccetera. Quindi ecco Giovanni, in sostanza per riassumere questo primo punto che so che ci tenevi insomma un pochettino a sottolineare, ecco in conclusione di questa... Sostanzialmente quando vado a stipulare un contratto la legge mi dice che io autore ho diritto ad avere una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza nonché commisolata ai ricavi. Quindi è chiaro che se mi sottopongono un contratto di edizione per una mia opera letteraria riconoscendomi, che ne so, l'1% del prezzo di vendita del supporto librario... Non va bene. Non va bene, no. O se mi riconoscono per esempio per l'ebook una percentuale molto bassa quando per esempio nel caso dell'ebook l'editorio non sostiene dei costi di stampa come avviene invece per il supporto librario non va bene. Ok? Questo è il punto di partenza direi. Perfetto. Allora Giovanni, io direi che poi ce ne sono altri tre che affronteremo prossimamente e adesso... Ne approfondiamo tutti. ...una prima carrellata e dunque vuoi ricordarci ancora una volta di quale direttiva si tratta? Allora, la direttiva è la 2019-790 quindi 790 del 2019 è chiamata direttiva copyright e è attuata in Italia con un decreto legislativo che è il 177-2021. Io ti ringrazio di questo intervento che è stato senz'altro molto chiaro molto esaustivo e allora direi che ci vediamo la prossima volta quando invece parleremo del secondo punto che appunto ricordacelo... L'obbligo di rendicontazione. L'obbligo di rendicontazione che è una cosa insomma che abbiamo già del resto trattato e che interessa moltissimo ai nostri spettatori. Benissimo, ringraziamo l'avvocato Giovanni D'Amassa potete raggiungerlo o comunque visionare i contenuti da lui organizzati a partire dal sito www.damassa.com e noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con le pillole di diritto d'autore legate alle opere letterarie. Vi salutiamo e presto saremo con voi con nuove dirette. Continuate a seguirci. Ciao a tutti e buona serata. Ciao Giovanni. Grazie.